Grazie, grazie mille per il suo intervento. Allora, professor Bucuicchio, chiaramente su questo le posizioni dell'opinione pubblica si divide, è chiaro che sia così? È giusto che sia così, è giusto che ci siano le due valutazioni dello stesso fenomeno, insomma. Io ho dato una valutazione quanto più possibile oggettiva. Se posso confortare l'interlocutore, io non sono uomo di sinistra, però sono un uomo che valuta e apprezza le qualità dell'avversario, o comunque della persona che sta dall'altra parte del campo. Posso dirle che, a mio giudizio, Emiliano è un fuoriclasse della politica e di questo bisogna tenerne conto, che Dario Stefano è un uomo di grande qualità e abbiamo visto come ha retto la presidenza della Commissione in un momento difficile e tutti quanti abbiamo seguito i lavori, la Commissione è da lui presieduta, Minervini è persona oggettivamente stimata, quindi di questo bisogna tener conto. Poi ognuno valuta, diciamo, nell'intimo, nel segreto dell'urna, come ritiene i fatti, ma credo che questi siano dati oggettivi dai quali non si possa prescindere. È un buon risultato in un momento di disinteresse complessivo nei confronti del fenomeno della politica, che poi ci siano imbrogli. I imbrogli ci sono dappertutto e comunque in questo nostro mondo, perché la coscienza sociale, come lei sa, lei è anziano e quindi ha visto bene il degrado che ci sta, il degadimento della coscienza sociale. Non si deve meravigliare più di tanto. Il professor Bucchicchio mi ha fornito un assist perfetto per lanciare ancora uno stralcio, l'ultimo di questo spazio, però prendiamo prima una telefonata. Poi a proposito delle qualità politiche umane dei tre candidati, bene, hanno parlato sia Emiliano che Stefano, però prendiamo prima una telefonata. Pronto? Sì, buongiorno dottore. Buongiorno. Ho saluto il professor Bucchicchio. Buongiorno. Perché lo conosco da molto. Sì. Professore, io vi voglio fare una domanda da un lavoratore in crisi. Sì. Allora, professore, ci hanno imbrogliato l'articolo 18 di tante di quelle cose. la Fornero. Allora, la sinistra che Emiliano è venuto vicino all'OM a dire questo e quest'altro. Quando la Fornero ci ha messo a 50 anni fuori, che non sapevamo cosa fare. La sinistra dove stava? Ma dove stava? La zona industriale ce l'hanno fatta chiudere. Professore, lei è il tecnico di noi a Bari. Grazie, grazie mille per il suo intervento. Beh, alla vigilia delle primarie qualche sindacato aveva anche detto se i candidati non dicono una parola sul job act noi non andiamo a votare. In qualche modo, ecco, c'è stata molto la discussione tra continuità e discontinuità rispetto alle politiche che stiamo vedendo attuare da governi di centrosinistra, sia il comune che la regione. È d'accordo col telespettatore? Che cosa possiamo dire? Sono d'accordissimo. Il problema del lavoro è il problema principale in questo momento. ma è un problema diffuso in tutta Europa, la disoccupazione è incalzante e credo che non sia possibile per i politici locali, non avendo la bacchetta magica, risolvere da soli il problema. È evidente che il problema deve essere risolto a livello nazionale. Però quando dico a livello nazionale intendo dire non soltanto da parte del governo ma anche da parte dell'opinione pubblica, da parte dei lavoratori che devono capire che in questo momento di difficoltà non possono ottenere tutto secondo i propri desideri, ma i loro desideri vanno concertati con le necessità economiche della nazione interamente considerate. Quindi diciamo, quando lei cita la Fornero, il job act, stanno andando avanti per tentativi nel governo. Non hanno, come dire, una ricetta buona per qualunque soluzione. Stanno cercando di trovare le soluzioni. Non è facile, quindi bisogna anche capire che non è che non vogliano e molte volte non ci riescono. Un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno a te e anche al professore. Io volevo fare solo una riflessione. Quando ci sentiamo dire dai politici intervistati sulle oltre 29 fiducia chieste dal governo non approvo ma voto per, come si dice, per linea di partito, ma noi ci sentiamo presi in giro. Prima perché cade il legame che c'è tra il politico e il territorio, tra il politico e il programma che ha proposto e poi mi chiedo come si fa a votare qualcosa che non si ritiene giusto, non si ritiene utile per la gente, per i lavoratori eppure votarla. Questo non è più un legame con la gente, diventa un legame con la poltrona e francamente è questo che fa disaffezionare le persone alla politica. Grazie, grazie mille per il suo intervento. Evidentemente stanno molto a cuore ai cittadini il tema della partecipazione e delle forme di democrazia. Professor Bucuicchio, un commento, poi sentiamo un ultimo straccio. L'interlocutore ha perfettamente ragione, io condivido totalmente la sua disaffezione quasi come reazione a questo fenomeno. Posso dire che qualche anno fa all'interno dei gruppi parlamentari la proposta del capogruppo che riportava a sua volta la proposta, diciamo così, espressa dal partito di appartenenza, cioè il frutto di una dialettica interna che poi arrivava a sintesi decisionale, veniva portata al gruppo, non veniva imposta, veniva proposta. Si discuteva all'interno del gruppo, la maggioranza prendeva la decisione e gli altri si allineavano. Adesso lo sa come funziona? Mi dicono i miei amici parlamentari con un messaggio sul telefonino. Si va in aula e si vota così. Quando un mio amico parlamentare tempo fa mi diceva ma io mi sento mortificato perché alla mia età, con le mie qualità, essere comandato da un capogruppo che mi dice quello che devo fare, io non ho nessuna possibilità di scelta, gli si rispondeva, diceva ma insomma sei stato gratificato della elezione, cos'altro vai cercando? E su questo mi pare sia piuttosto emblematico questo caso. Abbiamo un telespettatore in linea, ma lo prego di aspettare un attimo. Sentiamo un ultimo stralcio di Emiliano e Stefano che hanno parlato di questa competizione e hanno parlato anche di Guglielmo Minervini che non si è recato ieri al PD però ha sentito per telefono i suoi sfidanti. Noi cercheremo di raggiungerlo già oggi. Allora sentiamo subito uno stralcio e poi la telefonata. Pronto? Volevo ringraziare Dario perché ha fatto un gesto bellissimo nel venire qui. Sono molto felice e voglio ripetere in sua presenza quello che ho detto pochi minuti fa. Noi abbiamo voluto fortemente le primarie soprattutto perché volevamo consolidare il rapporto politico con Sinistra Ecologia e Libertà e con la lista Puglia Più. Le abbiamo volute e quindi ci siamo incamminati in questo giro folle ma bellissimo dove abbiamo fatto migliaia e migliaia di chilometri. Ho anche detto che l'eroe di questi chilometri è stato soprattutto Guglielmo perché li ha fatti in una condizione molto particolare quindi lo abbiamo salutato con grande affetto. Però Dario si è battuto con grande energia e soprattutto con grande stile. Io di questo lo devo assolutamente ringraziare. Evidentemente sono anch'io soddisfatto del lavoro che ho fatto in questi mesi impegnativo per me perché l'ho fatto sulle mie spalle senza la struttura di partito e l'ho fatto perché per me c'è un valore sacro che dobbiamo difendere che è quello del centro-sinistra in Puglia. È un valore che la gente ci riconosce che continua ad indicarci anche come bussola per le prossime regionali già che ci danno in vantaggio comunque rispetto ad un centro-destra che è un po' in difficoltà. Ecco, sembra pace fatta. Lo scopriremo dopo l'incontro di questo pomeriggio di Coalizione Le 15. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, sono Gianni D'Aliapiglia. Buongiorno. Io intervengo, saluto naturalmente lei e il suo ospite. Buongiorno. Io intervengo soltanto per chiarire una cosa, no? Su ciò che ha detto un precedente telespettatore e cioè che ha portato il centro-sinistra come emblema della democrazia grazie alle primarie. Io voglio solo far notare, mi pare a Francesco Di Poggio Franco che da quando c'è il centro-sinistra noi abbiamo avuto tre presidenti del Consiglio non eletti dal popolo cioè che non rispecchiano la volontà popolare. Se questa è democrazia, grazie Francesco. Buongiorno. Grazie, grazie mille per il suo intervento. 080-501-4668 per intervenire ed essere subito collegati con noi abbiamo ancora qualche minuto. Intanto dovremmo avere tra poco collegato anche il sindaco Antonio De Caro tra pochissimo. Allora, professor Bucicchio, appunto, ripeto, l'opinione pubblica si divide però torniamo all'analisi invece di questo voto. Che cosa ci raccontano queste percentuali intanto? Beh, ci raccontano che è un centro-sinistra forte e che quindi il centro-destra se vuole competere, diciamo così, con forze di pari livello deve organizzarsi bene, altrimenti di fronte a un centro-sinistra che ha dimostrato di essere attento alle prove democratiche e ma di avere una forza interna, una compattezza come si è visto anche dalla solidarietà che si sono espresse reciprocamente ai vari candidati beh, evidentemente è dura per il centro-destra se non si organizza in maniera altrettanto forte e organizzata. E questo nonostante le fibrillazioni dell'ultima ora perché lo ricordiamo, venerdì a un certo punto era sembrato quasi che le primarie potessero saltare nessuno in fondo, fino in fondo, ci aveva creduto però, insomma, sembrava una possibilità praticabile lo scontro tra Nichi Vendolo e Michele Emiliano che ora sembra, sembra, insomma, rientrato. Beh, un po' fra marito e moglie si litiga ma poi si resta sempre in famiglia, insomma. E la maggior parte dei cittadini poi aveva detto insomma, basta con le personalità troppo forti è giusto che decidano gli elettori è finito il tempo dei, ecco, dei leader, i leaderismi della primavera pugliese o, insomma, ancora la vittoria di Michele Emiliano ci indica che proprio così non è? Assolutamente, continuano a essere valorizzate le persone con una forte personalità Stefano lo è, Emiliano lo è Minervini ha dimostrato di esserlo quindi sicuramente continueranno a essere, diciamo così, di esempio anche per chi li seguirà non c'è dubbio che c'è desiderio da parte dei cittadini di avere una leadership come dire, di grande livello. 080 501 4668 abbiamo ancora davvero pochissimi minuti per parlare di Primarie Puglia non so se abbiamo un'altra telefonata in linea nel frattempo, se non ce l'abbiamo io mi sposterei soltanto velocemente sul frontoposto, no, però vedo che abbiamo un'altra telefonata perché qualche accenno invece al centro-destra volevo farlo, pronto? Pronto, buongiorno volevo solamente fare una piccola parentesi a livello personale io sono parente di una noto amministratura della città di Bari non so se purtroppo o per fortuna porto lo stesso cognome io vorrei solo dire che questo fatto di portare questo cognome a me personalmente mi interrompe il mio procedimento verso i miei pensieri verso chi governa questa nostra regione questa mia città perché devo andare o adesso o a sinistra però mi rendo conto che quando sentono il mio cognome mi girano la testa sia l'opposizione quindi io posso anche dire questa è una cosa diciamo prendiamola come una parentesi non è giusto che le persone vengono giudicate in base ai partiti o in base vengono giudicate in base solamente a quello che loro pensano che loro dicono io seguo sia la destra che la sinistra perché mi tocca quando c'è un sindaco diciamo mi trovo handicappata per questo grazie signora dico sempre signora Silvia che bisogna votare bisogna seguire la persona il dito e tutto quello che promettono in campagna elettorale e poi si svuota si svuota strada facendo grazie signora la sentiamo benissimo grazie grazie mille per il suo intervento siamo in chiusura la signora apre veramente un dibattito su un tema veramente veramente caldo che è quello della questione parenti cognomi e ne abbiamo parlato tantissimo per quanto riguarda l'università perché lo ricordiamo era scoppiata quella che è stata chiamata una parentopoli bis professor Buquicchio lei tanti anni di esperienza all'interno dell'università questa dei cognomi insomma è una storia importante la signora dice per me è una fregatura più che essere un vantaggio innanzitutto mi compiaccio con la signora per la sua passione politica per il discernimento che ha nella valutazione dei fatti politici e dei fenomeni e si lamenta del fatto che è penalizzata dal cognome signora questo può succedere ci possono essere dei vantaggi in certi momenti e dei svantaggi negli altri momenti ma alla fine guardi il bilancio può avere poste attive o poste passive alla fine deve quadrare e quindi lei faccia in modo che quadri a prescindere dal nome che porta e infatti assolutamente insomma vado avanti così con la massima genuinità e sincerità poi le cose verranno da sé professor Buquicchi un commento davvero in chiusura 30 secondi lo abbiamo sentito Stefano ed Emiliano hanno detto la vera sfida comincia oggi tutti compatti sarà secondo lei una strada in salita o il centro-sinistra può dormire sogni tranquilli questo è troppo presto per dirlo certo è una sfida che andrebbe accettata con pari determinazione dal centro-destra cioè a me piace la competizione e quando come l'Europa ci ha insegnato siamo in concorrenza leale diciamo così i benefici ricadono comunque sulla collettività generale siamo in chiusura io saluto e ringrazio il professor Michele Buquicchio per essere stato con noi grazie mille professore grazie a voi grazie a voi per averci seguito grazie alla regia di Telebari e Radio Bari e anche a Valentina Belmonte che ieri con me ha raccolto le voci dei candidati tra pochissimo il Bari il calcio con crisi al siciliano naturalmente grazie a tutti voi per le vostre considerazioni sempre puntuali e interessanti restate con noi